Con l'estate alle porte il Comune di Teramo ha deciso di riproporre le vie del gusto. La fortunata scelta dello scorso anno con la chiusura al traffico di alcune strade molto frequentate per via della presenza di luoghi di ristorazione, sfruttando anche il buon periodo sotto il profilo sanitario e l'imminente passaggio alla zona bianca. L'idea è di chiudere dagli 18 al traffico le vie del centro dove insistono ristoranti, enoteche e pizzerie. L'elenco delle vie è in fase di ultima definizione e in parte ricalca quello dello scorso anno, ma con ogni probabilità ci saranno anche diverse novità. La Giunta sta mettendo a punto i dettagli e a breve dovrà essere redatta la delibera che regola tempi e modi del nuovo scenario cittadino da giugno a settembre. L'esperimento è riuscito pienamente lo scorso anno, siamo riusciti a mitigare un po' le esigenze dell'attività di somministrazione, e questa vocazione anche di accoglienza enogastronomica della città di Teramo, alle esigenze dei residenti. Quindi sarà una conferma per tutte quelle vie che abbiamo intanto istituito lo scorso anno. Andiamo ad aggiungere qualche via che potenzierà in qualche modo queste vie del gusto, sempre dalle 18 in poi nella maggior parte dei casi, tranne su Via Veneto dalle 19 e 30, per sostenere anche il lavoro di altre attività che non sono di somministrazione della zona. E poi dopo ci sono tutta una serie di discorsi anche su altre vie, quindi anche su Via Capuani, anche sui corsi eccetera, dove effettivamente si può in qualche modo potenziare ulteriormente questa vocazione enogastronomica. Via Capuani ad esempio è una di quelle vie dove già ci sono tantissime attività, andando a istituire già dalla mattina la zona traffico pedonale, compatibilmente chiaramente con le esigenze dei residenti, si andrebbe a caratterizzare tantissimo quella via. Quindi in qualche modo si va a incentivare anche ulteriori insediamenti di tipo enogastronomico sulla stessa, che sicuramente renderebbero ancora più accogliente tutta la strada. Chiaramente sono delle idee che stiamo portando adesso attraverso una delibera di giunta, seguirà un'ordinanza, ma ci siamo, ormai siamo pronti. Quindi quando si partirà secondo lei? Ma io credo che già dal weekend, quello di domenica 13, dovrebbe essere operativa.